ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di telecamere quindi ambito domestico professionale casa ufficio insomma un po di tutto e parliamo di una tipologia di telecamere di collegamento e di funzionamento che non ho mai portato sul canale non è una tecnologia nuovissima uscita oggi esiste già da un po però magari tanti di voi non hanno dimestichezza non hanno ben capito come funzionano e allora oggi vi faccio vedere un po come funziona questo sistema delle telecamere delle ip camera perché lavorano attraverso una rete con il sistema poi poi vuol dire che si alimentano anche attraverso il cavo di rete vi faccio una infarinata generale noi siamo abituati magari alle telecamere che vanno collegate con un cavo che dal dvr ok parliamo di sistemi con registratore dal dvr parte un cavo diciamo video quindi un coassiale questi sono i vecchi sistemi a cui io sono molto affezionato e per quanto riguarda le telecamere tendo a usare sistemi comunque hd alte prestazioni ma lavorando su cavo coassiale ma le telecamere di rete quindi le ip camera con addirittura alimentazione poi sono molto più comode molto più funzionali dicevo noi siamo abituati al cavo che dal dvr va a ogni telecamera invece il sistema delle telecamere ip va a semplificare appunto a rivoluzionare un po questo sistema perché noi abbiamo una telecamera connessa nella nostra rete che sia casa ufficio fabbrica o quello che sia quindi un cavo di rete che arriva alla telecamera che la mette nella nostra rete attraverso uno switch quindi un multiporta dove attacchiamo tante periferiche col cavo di rete appunto mette questa telecamera in rete che possiamo visualizzare all'interno della rete ma in questa rete c'è anche l'accesso a internet quindi la telecamera può anche uscire può essere registrata da eventuali dvr nvr all'interno della rete abbiamo tutta una possibilità di espansione diversa di cablaggio diversa di installazione diversa perché noi possiamo arrivare alla telecamera col cavo di rete ma non dobbiamo per forza andare dalla telecamera al dvr nvr possiamo arrivare a uno switch che magari è vicino alla telecamera dove a questo switch si collegano altre 5 telecamere quindi avrò 5 6 telecamere sullo switch un unico cavo di rete che dallo switch va al router per esempio in questo modo noi abbiamo le nostre telecamere collegate alla rete e collegate anche a internet ok escono anche dalla nostra rete domestica sulla stessa rete magari è collegato con un altro cavo sempre al router l'nvr il registratore il dvr e quindi riusciamo a vedere quella telecamera passando attraverso la rete questo è il concetto di funzionamento le telecamere per ogni singolo punto vanno alimentate a 12 volt perché hanno anche l'ingresso per i 12 volt ma se sono telecamere poi poi vuol dire power over ethernet mi sembra non vuole dire una fesseria alimentazione tramite il cavo di rete in pratica se sono predisposte per essere alimentate col cavo di rete arriviamo solo col cavo di rete e quindi abbiamo il flusso dati e anche l'alimentazione ma a monte devono essere collegate direttamente a un registratore un nvr che supporta l'alimentazione tramite cavo di rete o uno switch di rete come quello che vedremo oggi con la funzione poi che quindi tramite il cavo di rete può anche alimentare la telecamera ora vi faccio uno schemino veloce per farvi capire questo sistema di collegamento ok giusto per spiegarvi le differenze in un sistema tradizionale con cavo coassiale ad esempio noi cosa dobbiamo fare da ogni telecamera dobbiamo tirare un cavo che va fino al nostro dvr ok ogni telecamera dovrà avere il suo cavo che fa tutto il giro e arriva al dvr il dvr si connette poi a internet direttamente collegandolo al router al modem questo chiaramente implica una stesura del cavo per collegare ogni telecamera al dvr inoltre poi ci sono due differenze vi avevo già fatto vedere le telecamere poc ad esempio dell'equision che si alimentano tramite il cavo coassiale o altrimenti ogni telecamera va alimentata singolarmente col sistema delle telecamere ip invece abbiamo il vantaggio che basta metterle nella rete ma non devono per forza arrivare fino all'nvr all'nvr ci arrivano indirettamente attraverso la rete e non solo noi potremmo avere un gruppo di telecamere collegate ad uno switch è un altro gruppo collegato ad un altro switch ma la condizione più semplice qual è tutte le telecamere che arrivano ad uno switch ok che magari è già nelle zone se poi uno switch poi non bisogna portare anche l'alimentazione delle telecamere bisogna solo creare un punto di alimentazione per lo switch stesso ci sarà poi il collegamento di rete tra router e l'nvr ma il collegamento tra l'nvr tutta la rete delle telecamere avviene semplicemente collegando anche lo switch alla rete capite bene la differenza nei collegamenti noi possiamo realizzare una mini rete tra le telecamere che poi a loro volta fanno parte della rete a cui siamo collegati con l'nvr senza dover portare ogni singolo cavo fino all'nvr il vantaggio dell'installazione è notevole e poi parliamo dell'oggetto di oggi che uso come esempio è una telecamera dell'anche è una marca che si trova molto online vende anche su amazon vi lascerò i link per i prodotti che vedremo oggi dal loro shop ufficiale ma le trovate un po dappertutto e parliamo di una telecamera da 5 megapixel in formato bullet quindi quelle col braccio tanto per capirci con alimentazione poi senza scendere troppo nel dettaglio oggi vedremo una telecamera con un'ottica 2.8 mm fissa quindi un'apertura abbastanza ampia esiste anche con l'ottica fissa da 4 mm quindi un po più stretta delle ottiche magari parleremo in altri video facciamo lo spacchettamento vi faccio vedere un po tutto e poi andiamo avanti con i test ok due scatole questa ci arriviamo dopo qui abbiamo la nostra telecamera è una telecamera alimentata a 12 volt oppure poi con lente ottica fissa da 2,8 mm null'altro sulla scatola se non il marchio allora dotazione la dima per forare per fissare la basetta della telecamera quella la base della staffa manuale d'uso in inglese adesivo dove indichiamo che l'area è video sorvegliata 24 ore su 24 una guida rapida dove ci spiega come collegarla e gestirla perché possiamo alimentarla con un alimentatore a 12 volt oppure l'abbiamo presa per quello direttamente da uno switch o un nvr con l'uscita poi è una telecamera onvif quindi vedremo di visualizzarla su un nvr in questo caso ic vision e vediamo se ci riusciremo ci fa poi vedere come usarla indipendentemente con un pc tramite applicazione insomma adesso poi me la studio faccio delle prove e la guardiamo insieme tassellini di dubbia qualità questo serve per la tenuta stagna del connettore adesso ci arriviamo e finalmente arriviamo alla telecamera allora una bullet questo formato si chiama bullet piccolina carina tutta di plastica buoni materiali non croccanti anche la base in plastica anche lo snodo in plastica qui sotto abbiamo l'ingresso per una micro sd e c'è il pulsante di reset vedete pulsante e ingresso micro sd non abbiamo regolazione di messa a fuoco sotto la pellicola abbiamo l'obiettivo e qui intorno ci saranno i led abbiamo anche un piccolo forellino che bisogna scoprire cosa null'altro per quanto riguarda le connessioni abbiamo la possibilità di alimentarla anche a 12 volt altrimenti lo teniamo tappato e l'alimentiamo tramite connettore di rete alimentazione poi che sfrutteremo con questo connettore faremo passare il cavo col connettore di qua vedete che è fatta in modo per far passare anche un cavo già intestato qui anche dovrebbe passare questo si apre quindi facciamo passare questo nel cavo mettiamo questo che deve stare qua dentro andiamo a stringere il cavo in modo da garantire la tenuta stagna e qui abbiamo ancora un o ring quindi da mettere in questa posizione per fare una chiusura tutta stagna ok la telecamera abbiamo detto prima che la gestiremo con uno switch questo è uno switch sempre dell'anche alimentato direttamente a 220 spina asciuco attacco IEC eccolo qua un bel bestione di switch poem questo cosa vuol dire vuol dire che arriveremo col cavo di rete quindi quello per metterlo online direttamente a lui e poi abbiamo la possibilità di alimentare fino a 8 dispositivi con alimentazione poi qui possiamo scegliere se il tiro deve essere la lunghezza del cavo 250 metri o 100 metri perché cambia la tensione che va a dare in uscita e qui arriviamo con la rete entriamo col 220 niente di particolare abbiamo l'attacco per metterlo diciamo a parete con due tasselli in pratica qui possiamo collegare gli otto dispositivi in uscita e qui arriviamo con la rete ovviamente lo switch poi non deve essere per forza dell'anche può essere un qualsiasi switch poi ma sia con le telecamere anche che con qualsiasi altra telecamera di qualsiasi marca l'importante che sia rispettato lo standard poi ora faccio un po di prova e vedo se funziona tutto e poi vi faccio vedere cosa combinato bene dentro la confezione troverete una quick start abbiamo visto il foglio con le istruzioni principali dove vi fa vedere i vari modi di attivazione e adesso vi farò vedere il modo di attivazione tramite il browser del vostro computer in pratica bisogna scaricare un software installarlo questo software trova la telecamera si fa l'attivazione creando una password e in pratica siete già pronti facciamolo un attimo insieme dunque per prima cosa link della pagina di supporto anche che vi lascio in descrizione bisogna scaricare il software sadp tool una volta aperto il software sadp come si chiama vedete che troviamo tutto quello che software riesce a beccare nella rete tutti i dispositivi ip che riesce a riconoscere dunque la prima riga è il mio nvr dell'eqvision che il software trova che infatti risulta attivo e poi trova la nostra telecamera i51 dl che è inattiva dobbiamo selezionarla e attivarla per attivarla dobbiamo mettere una nuova password una volta definita la password che deve necessariamente avere una maiuscola ma non una minuscola un numero altrimenti il nome la prende possiamo anche in questa fase ad esempio abilitare la compatibilità con l'eq connect e connect è l'applicazione nativa di eq vision per gestire i dispositivi in rete io per il momento non l'abilito ma attivo la telecamera ok dice che il device è attivato prende il suo indirizzo nella rete e qui ci sono una serie di domande di sicurezza nel caso non si trovi la password e fosse necessario ripristinare la telecamera possiamo scegliere se rispondere a delle domande o gestirlo tramite email io lo gestisco tramite email diamo conferma salviamo la mail e abbiamo anche configurato il sistema di emergenza diciamo chiudiamo la finestra qui abbiamo l'indirizzo che prende nella rete la porta la maschera il gateway tutto quello che riesce a beccare dalla rete perché la gestiamo in dhcp quindi prende i parametri da sola tornando sulla telecamera attraverso il software in qualsiasi momento possiamo decidere se abilitare o lasciare non abilitato il supporto connect dunque ricordatevi l'indirizzo 178 189 chiudiamo il programma mettendo nella barra l'indirizzo della telecamera possiamo entrare direttamente dentro la telecamera entreremo mettendo l'username admin e la password che abbiamo impostato prima e da questo momento in poi abbiamo la possibilità di guardare attraverso la nostra rete la telecamera telecamera che ora non si vede perché bisogna scaricare il plugin installarlo aggiorniamo la schermata purtroppo con chrome vedo che ha dei problemi di visualizzazione quindi proviamo con internet explorer mettiamo qua nella barra l'indirizzo 192.168.178.189 facciamo di nuovo il login scarichiamo anche qua di nuovo il plugin ok vedete che in questo caso la telecamera viene visualizzata correttamente vi posso anche salutare adesso ce l'ho appoggiata lì dietro su uno scaffale vedete che comunque all'interno si vede bene quindi la telecamera è perfettamente in rete perfettamente funzionante qui sopra abbiamo la vista in tempo reale il playback quindi per accedere alle registrazioni che eventualmente avrebbe sulla micro sd che potete inserire la possibilità di gestire le immagini che vengono salvate e tutto il discorso della configurazione dove potete cambiare le informazioni base l'impostazione dell'orario che in questo caso è sincronizzato come data ma non come ora quindi io gli darei la sincronizzazione col computer 1539 in questo caso salviamo l'impostazione ci risponde correttamente qui cosa d'altro ci può interessare il dst la comunicazione col 232 niente di particolare possiamo cambiare il nome possiamo cambiare il numero di dispositivo qui abbiamo tutte delle utility per diagnosi di problemi ripristini riavvi eccetera la possibilità di cambiare l'autenticazione i parametri di sicurezza il livello degli utenti che possiamo aggiungere o modificare tutta la parte per la configurazione di rete che noi lasciamo in automatico possiamo configurare anche la tipologia di video e audio la possibilità di regolare tutta la parte delle immagini gli eventi e abilitare il motion detect eccetera e la situazione del storage che in questo caso vede la programmazione sui giorni orari per le registrazioni o addirittura impostazioni avanzate come il pre la pre registrazione la post registrazione eccetera ok torniamo alla visione live mi va via l'immagine non riesco a capire il perché ma ho notato che mentre sono nella pagina principale non la vedo appena vado a cliccare qualche altra parte del menu tipo il download vedete che poi torna l'immagine ed è anche in tempo reale per la visualizzazione da pagina web magari potrebbe avere qualche lag qualche ritardo qualche problema ma in questo caso a me interessa poi utilizzarla col mio nvr quindi chiudiamo la parte di attivazione via web browser e ci spostiamo sull'nvr bene una volta che la telecamera è stata attivata ora mi sposto sul mio nvr dell'eqvision vi farò vedere che riesco a beccare la telecamera nella rete ea a inglobarla dentro il mio nvr che ha già otto telecamere normali collegate fisicamente riuscirò a beccare anche questa telecamera di rete perché questo nvr in questo caso riesce a gestire otto telecamere collegate fisicamente più due ip camera all'interno della rete la troverà sicuramente perché come abbiamo visto questa telecamera può abilitare il protocollo dell'eq connect per essere vista direttamente dall'app ma essendo una telecamera col protocollo on beef l'nvr la vedrà all'interno della rete e riuscirà a gestirla senza problemi questo cosa vuol dire vuol dire che io registrerò quello che inquadra la telecamera h24 sul mio nvr ma vi ricordo che potete anche montarla separatamente da sola nella rete mettendo la micro sd e avrete accesso alla memoria che ha registrato direttamente da un browser ad esempio ok ci spostiamo qui nel mio bunker dove ho il monitor e l'nvr vado ad esempio qua nella parte delle telecamere vado a cercare una telecamera ip faccio l'aggiunta vedete che mi trova la mia telecamera con lo stesso indirizzo protocollo ic vision oppure on beef la lascio in questo caso sulla ic porta trasferisci nome utente admin andiamo a mettere la password e aggiungo la telecamera vedete che lo stato passa in play tranquillamente quindi la seleziono vedete che la telecamera si vede correttamente mi sta inquadrando mentre sono nell'armadietto e vado a dirgli che il canale 2 del mio nvr diventa una telecamera ip salvo e riavvio il sistema ok io in questo caso sono andato nell'interfaccia delle telecamere dove ho le mie 8 collegate normalmente e lui mi dice che possiamo aggiungere al massimo due telecamere ip una volta fatta questa configurazione applico e riavvio il sistema perfetto quindi adesso la telecamera online vedete che io sono direttamente nel video questo è l'angolo dove ho il mio monitor vedo la prima telecamera che adesso è diventata la ip camera più tutte le mie altre telecamere adesso in questa visualizzazione ho una telecamera scollegata e infatti è in allarme va bene ok se vado ad applicare la visualizzazione con griglia 3x3 torniamo in vista live vedete che ho le mie 8 telecamere di cui una in questo momento non funzionante più la mia camera ip ok ora facciamo un po di test vi faccio vedere come si vede alla luce del sole come si vede in un ambiente chiuso illuminato e come si vede in un ambiente chiuso completamente buio una telecamera che costa adesso in promo 35 euro si vede bene si vede molto bene ho provato anche a fare degli ingrandimenti funziona bene diciamo che con pochi euro riuscite a prendervi un prodotto versatile fatto bene che lavora bene senza magari per forza non dover necessariamente indirizzarsi verso marchi più blasonati questo non vuol dire che degli altri paghiamo solo il marchio non la qualità vuol dire che anche spendendo poco si riesce ad avere un buon prodotto questa era solo una delle migliaia di telecamere ip che costano poco che hanno l'alimentazione attraverso il cavo di rete che funzionano bene però abbiamo visto che comunque valida se avevate intenzione di comprarla o non sapete cosa comprare questa potrebbe essere una buona soluzione vi lascio tutti i link in descrizione se vi è piaciuto il video come la solita un bel like mi raccomando non costa nulla ve lo devo chiedere sempre cliccate iscriviti ma soprattutto controllate se siete ancora iscritti perché a volte pensate di essere youtube togliere iscrizioni perché le iscrizioni per uno come me che non ne ha così tante sono fondamentali per far crescere il canale grazie al prossimo video alla prossima diretta o se passate in provincia di torino mi trovate il negozio ciao da massidattoli ciao 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 ciao